Per rendere più accogliente e sicuro il più grande ospedale ostetrico ginecologico d'Europa, è stato inaugurato il rinnovato ingresso di Via Ventimiglia 3 dell'ospedale Sant'Anna di Torino. L'intervento è stato realizzato dalla Fondazione Medicina Misura di Donna, in collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati, tra i quali la consulta femminile regionale. Colori e luci calde, nel rispetto dello stile dello storico edificio, accolgono le pazienti e i visitatori per dare serenità e ridurre l'impatto con la struttura ospedaliera. Le porte del Sant'Anna si aprono per un'iniziativa dall'alto significato? Il significato è quello di fare in modo che questo ospedale, che è il più grande ospedale ostetrico ginecologico d'Europa, abbia dei punti di accoglienza sempre più rispondenti ai bisogni e ai desideri delle donne. Abbiamo iniziato questo progetto per rendere tutta la struttura più accogliente, più serena, anche dal punto di vista cromatico e più sicura, più adeguata alle norme di legge. Serviva un po' di colore per togliere questo grigio folgorante che caratterizzava l'ingresso del Sant'Anna. Ci ha ispirato la storia del posto, quindi non abbiamo tolto tutto quello che esisteva, ma abbiamo tolto tutto quello che potevamo tenere, che ci sembrava funzionare in questo obiettivo di ringiovenimento dello spazio. Con materiali classici abbiamo inserito forme contemporanee per mettere assieme e sposare bene all'interno di un edificio storico un nuovo spazio che regga questo confronto.